buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar che avrà come oggetto la presentazione della nuova versione 6 di Mall Simulator e di clima al piacere di avere ospite l'ingegner Piero Berlanda di DARTWIN che conosce alla perfezione il software Mall Simulator e che oggi ci presenterà in primo luogo le novità di questa nuova versione dando comunque avendo un po' di tempo a disposizione per vedere qualche ponte termico che siamo soliti simulare con Mall Simulator ad esempio il classico nodo parete telaio che spesso e volentieri causa qualche problema di simulazione nella verifica della trasmittanza delle strutture come siamo abituati a fare nelle verifiche dei requisiti tecnici che spesso capitano anche nelle pratiche di super bonus. Due informazioni circa l'organizzazione di questo webinar di oggi pomeriggio avrete la possibilità di rivolgerci le domande come al solito attraverso la piattaforma di GoToWebinar quindi accedendo alla sezione delle domande potete scriverci le domande alcune domande magari verranno risposte sostanzialmente direttamente da tastiera mentre se ci saranno alcune domande coerenti con quello che sta facendo vedere l'ingegner Berlanda potrò sostanzialmente andarlo ad interrompere ponendo la domanda in maniera tale da rendere un attimino più interattivo il webinar di oggi quindi eventuali domande che vorrete porci scrivetele appunto nella sezione delle domande. Al termine della presentazione di Piero vi farò poi vedere giusto nel giro di pochissimi minuti come funziona l'interfaccia fra EC700 e Mold Simulator quindi vedremo un attimino come i due software si interfacciano ma appunto il fulcro del webinar di oggi è sicuramente e sono sicuramente le novità introdotte dalla nuova versione 6 quindi non mi dilungo troppo non voglio rubare tempo all'ingegner Berlanda quindi do la parola a Piero procedi pure con la tua presentazione condividendoci il tuo desktop. Grazie Stefano è un piacere mio di essere qui benvenuti a tutti effettivamente l'occasione questa è un'occasione che si presenta di solito ogni tre anni circa quando noi usciamo con le nuove versioni e questa è la 6 siamo partiti nel 2008 e quindi passo passo abbiamo aggiunto aggiunto integrato funzionalità e francamente pensavamo non ci fosse più tanto da aggiungere poi le necessità degli utenti sono infinite il mondo dei ponti termici è pressoché sconfinato quindi alla fine c'è sempre qualcosa da aggiungere da fare questa versione 6 effettivamente raccoglie come detto tante richieste osservazioni anche nostre liste di cose che sapevamo erano da mettere ma non avevamo mai trovato il tempo per farlo quindi abbiamo cercato insomma di aggiungere in questa uscita le cose principali ce n'è ancora abbiamo ancora un bel pacchetto di desiderata nel nostro diciamo elenco di funzionalità da inserire quindi ci sarà ancora per il futuro la prima cosa che volevo dire era questo che con la versione 6 effettivamente noi cambiamo anche modalità di aggiornamenti del programma fino ad oggi facevamo una versione per esempio abbiamo fatto la versione 5 tre anni fa e poi facevamo degli aggiornamenti però ovviamente tutte le cose più rilevanti le tenevamo perché quelle che ci obbligano a mettere le mani pesantemente sul sul programma li tenevamo per la prossima versione che appunto quella oggi è la versione 6 però in questo modo si creano degli scalini in cui per un periodo in molti casi piuttosto lungo si tengono indietro delle funzionalità che sono magari importanti urgenti e quindi abbiamo pensato di dare più progressività al allo sviluppo del programma e con la versione 6 quindi non ci saranno più necessariamente dei scalini così diciamo importanti e distaccati quindi temporalmente di due o tre anni come è stato fino adesso ma cercheremo di uscire mano a mano sempre con le nuove funzionalità che potranno essere semplici aggiornamenti in alcuni casi potrebbero anche portare a dei cambi di versione però per quanto riguarda l'utente è indifferente nel senso che tutti gli aggiornamenti compresi quindi anche i cambi di versione saranno gestiti da aggiornamenti automatici non ci sarà più necessariamente l'acquisto di una nuova versione fra due o tre anni questo però comporta un canone annuale e quindi invece di fare un acquisto di una nuova versione ogni tre anni noi proporremo un canone annuale che per esempio per mold pro 2d è di circa 90 euro all'anno che comprenderà quindi tutti gli aggiornamenti e tutti anche eventuali cambi di versione quindi qualsiasi novità ci sia sarà chi è abbonato agli aggiornamenti potrà usufruirne il passaggio dalla 5 alla 6 comunque prevede 12 mesi di aggiornamenti inclusi quindi chiunque avesse la versione 5 o anche precedenti e facesse poi l'upgrade alla versione 6 sa che per 12 mesi è tranquillo tutto quello che noi pubblicheremo di novità saranno incluse bene quindi io partirei subito con vedere il programma e noi adesso qui ci concentreremo sulla versione 2d che è la versione più comune in realtà grande innovazione grandi modifiche le abbiamo fatte anche nella versione 3d anzi direi che forse il 3d cambia proprio molte funzionalità e quindi sarà quello che su cui probabilmente punteremo di più in futuro il programma una volta avviato adesso avvio eccolo qua presenta una schermata che è leggermente diversa da quella precedente della versione 5 cioè che è razionalizzata nella versione precedente avevamo due schede fondamentalmente quella dei template per il calcolo da file dxf e quella dei ponti termici per i ponti termici realizzati in modalità parametrica nella schermata dei template c'erano sia quelli per il solo calcolo del psi e quelli del calcolo del psi più la verifica della muffa adesso le abbiamo separati in due schede diverse quindi in questa prima scheda calcolo psi ci sono i template per il calcolo del solo psi del ponte termico lineare senza verifica di muffa e condensa in questa scheda invece che quella di default sono i template per il calcolo del psi e anche la verifica di muffa e condensa poi abbiamo sempre la schermata dei ponti termici parametrici e infine un'ultima scheda dove abbiamo messo diciamo dedicheremo anche uno spazio a quelle che sono i template non di ponti termici in questo caso abbiamo messo qui al momento la trasmettanza il calcolo della trasmettanza u media e il calcolo della conducibilità equivalente quindi se intendiamo effettuare un calcolo a partire da file dxf e quindi da un disegno cad utilizzeremo o questa scheda se vogliamo fare anche la verifica di muffa e condensa oppure questa scheda se vogliamo fare solo il calcolo della trasmettanza lineare abbiamo cambiato anche le icone come vedete i disegnini perché magari le altre davano l'idea proponendo dei casi concreti dei ponti termici concreti che si dovesse calcolare proprio quel ponte termico lì invece erano solo rappresentativi quindi li abbiamo schematizzati e quindi adesso si vede l'icona del calcolo con due ambienti praticamente un ambiente caldo e un ambiente freddo insomma quando abbiamo due ambienti solo il calcolo quando siamo in presenza di tre ambienti di cui uno non riscaldato quindi oppure riscaldato a una terza temperatura ma normalmente si tratta di un ambiente caldo un ambiente freddo e un ambiente non riscaldato poi abbiamo aggiunto o meglio razionalizzato anche lì c'era il doppio template quello della posa del serramento quindi abbiamo il calcolo di posa e poi abbiamo il calcolo del pavimento contro terra pavimento e pareti contro terra strutture contro terra e abbiamo aggiunto una nuova tipologia che è il misto diciamo tra il template numero 3 e il numero 4 quindi i casi in cui si fa il calcolo della posa però su strutture contro terra quindi all'unione appunto del 3 e del 4 che è una tipologia aggiuntiva sicuramente avremo la necessità di aggiungere in futuro ulteriore tipologie perché poi i casi si complicano ancora perché avremo la necessità probabilmente di avere degli ambienti ambienti non riscaldati contro terra oppure delle posa di serramenti con ambienti non riscaldati su strutture contro terra quindi la combinazione delle varie casistiche darà luogo ad ulteriori tipologie che pubblicheremo in futuro appunto come aggiornamenti negli aggiornamenti verranno scaricati anche quando disponibili i nuovi template quindi ricordo ancora che il template è solo una preimpostazione del programma quindi propone le funzionalità necessarie una certa tipologia di calcolo nasconde quelle non necessarie mette dei contorni che servono ma non carica nessun disegno il disegno del ponte termico quando si usano i template quindi nella prima scheda e nella seconda scheda quindi in tutte queste casistiche deve essere generato dall'utente quindi o importato da DXF oppure generato magari con gli strumenti di disegno che vedremo poi oppure potrebbe anche essere generato da un ponte termico parametrico e poi modificato, salvato, ripreso, insomma manipolato però prevede comunque che il disegno debba essere caricato, importato e a tale scopo qui in basso abbiamo una funzionalità che è importa dopo selezione template quando è attiva e di default normalmente attiva ma si può disattivare alla scelta della tipologia di template da utilizzare successivamente seguirà subito si aprirà la finestra per importare il file DXF quindi se io parto a fare un progetto nuovo scelgo che tipo di calcolo devo fare che ne so una posa, un calcolo di posa del serramento e ho questo attivo una volta selezionato il programma, la finestra si chiuderà come in questo caso e si aprirà la schermata per importare il file DXF che mi serve quindi posso navigare e cercare il file DXF che ho quindi ovviamente posso sempre chiuderlo se non voglio che ogni volta mi si apra la ricerca del file DXF da caricare basta solo disattivare questo flag qui questo è un flag che c'era anche prima, mostra l'avvio per mostrare questa schermata qui quando avvio il programma se per caso io faccio una serie di calcoli dove non ho bisogno né di selezionare i template né i ponti termici perché lavoro per esempio su progetti già fatti allora potrei non volere che mi si apra questa finestra l'avvio e quindi tolgo questo flag qui in basso abbiamo comunque le funzionalità che sono carica template di default il template di default è il numero uno del calcolo psi più verifica muffa cioè la classica situazione in cui io ho due ambienti dove devo calcolare sia il ponte termico lineare che la verifica di formazione di muffa è condensa quindi se io scelgo questo oppure se chiudo il programma caricherà automaticamente questo template qui se sono su questa scheda se sono su questa scheda invece caricherà di default questo template qui e posso comunque caricarlo da qua carica progetto è se invece voglio aprire subito un file già fatto cioè un .mos un file .mos che ho già generato quindi vado già subito ad aprire il progetto già da qua e posso aprirlo in mall simulator carica ponte termico invece vado a caricare sempre un progetto ma che è stato salvato in modalità parametrica dai ponti termici dai modelli di ponti termici parametrici quindi adesso magari lo vedremo ancora se io faccio delle impostazioni in modalità parametrica al mio ponte termico e lo salvo nella mia libreria ponti termici parametrici io lo posso riaprire anche da qua da carica ponte termico allora a parte le due schede dei template quindi da utilizzare con file .xf la scheda invece dei ponti termici sono i modellini dei ponti termici già generati quindi questi comportano la presenza sul viewport sullo schermo di un disegno e sono quelli diciamo collegati anche con EC700 quindi la generazione di un ponte termico del modellino di ponte termico in modalità parametrica può avvenire direttamente dalla maschera di bridge generator che è questo dal generatore parametrico di ponti termici oppure posso arrivare qui anche direttamente dalla impostazione del ponte termico del modello di ponte termico che è stato realizzata in EC700 quindi quando in EC700 scelgo imposto il ponte termico e poi dico aprilo con mall simulator si aggancerà a uno di questi modelli predefiniti e quindi diciamo è come se io lo avessi selezionato qui e preimpostato all'interno di bridge generator tra le varie tipologie che queste erano quelle che c'erano già abbiamo aggiunto due tipologie di cui si sentiva molto la mancanza in particolare la posa del serramento la possibilità di creare dei modelli parametrici di posa nel serramento e dei modelli parametrici di strutture contro terra perché queste sono tutte strutture fuori terra e mancavano appunto quella della posa e quella del pavimento contro terra se noi andiamo per esempio ad aprire il modello di posa serramento al momento i modelli, i sottomodelli che abbiamo previsto sono di posa laterale ciò non toglie che magari possono essere anche utilizzati per una posa verticale cioè per un davanzale, una soglia adesso definiremo in futuro dei modelli parametrici anche per le tipologie verticali di posa al momento in ogni caso ci sono queste orizzontali nelle tipologie vedrete che ci sono quelle senza spalla con la possibilità di definire le caratteristiche della spalletta e con la possibilità di definire una spalla isolata o diciamo termicamente isolata verso l'esterno quindi prendendo le varie tipologie questa è probabilmente quella più completa abbiamo poi le varie tipologie con isolamento interno con isolamento centrale senza isolamento a parte quello che è previsto in questo caso per la spalletta e questa che è con isolamento esterno quindi se prendiamo per esempio una tipologia di queste qui abbiamo la possibilità di configurare materiali e dimensioni per tutti questi spazi che sono numerati qui quindi avremo gli strati della parete come avevamo già prima per poter definire la tipologia di parete abbiamo gli strati della spalla in questo caso abbiamo due strati un isolamento e un materiale spalla ovviamente si possono inserire ulteriori elementi ulteriori strati sempre in modalità di stratificazione aggiungere un 3, un 4 a questo senso stando dentro ovviamente nel spessore impostato per la spalla perché se io qui cambio lo spessore mi vado a mangiare totalmente a definire quindi deve essere coerente la somma dei materiali che arrivo qua con la somma totale dello spessore della spalla quindi se io do qui in basso per esempio una larghezza spalla di 200 posso modificare la larghezza in questo senso qua mentre appunto questo senso qua è dato dalla somma degli strati che abbiamo visto qua abbiamo poi delle configurazioni generali sulla posizione della finestra che sono l'inserimento finestra X se qui per esempio raddoppio la finestra mi viene inserita nella muratura per una profondità maggiore in senso X e poi invece ho la possibilità di spostarla che è appunto quella che poi determina lo spessore della spalla nel senso Y quindi se per esempio io qua cambio da 150 a 100 vedo che il telaio si sposta verso l'esterno quindi diciamo che ho la possibilità di muovere il telaio avanti e indietro lungo lo spessore della parete di inserirlo più o meno nella parete abbiamo la possibilità di definire i materiali chiaramente della spalla qui adesso avendo poco spazio a disposizione devo per forza rimodificare gli spessori per andare a star dentro quindi devo poi andare a giocare sugli spessori di questi materiali ho poi la parte in tonaco superiore in tonaco inferiore ho i materiali del telaio e una caratteristica dei materiali beh in tonaco superiore in tonaco inferiore ovviamente si intende quelli qui sulla spalla perché questo è già definito come strato stratificazione di parete mentre qui io ho la possibilità di definire gli spessori frontali diciamo della spalletta dicevo che per quanto riguarda il telaio qui una volta definito lo spessore del telaio in questo caso è impostato un 68 mm e una larghezza del telaio 120 mm per esempio a me basta qui inserire il valore di UF del telaio che voglio rappresentare e il programma andrà a riempire questo rettangolo con un lambda tale da rispettare questo valore di UF che io scrivo qua quindi nel caso del telaio per facilitare le cose noi non andiamo a inserire un lambda perché chiaramente noi rappresentiamo un telaio con uno spazio pieno con un rettangolo pieno ma il telaio è pieno di cavità e quindi serve un lambda equivalente piuttosto che andare a fare tutte queste diciamo valutazioni sulle cavità noi diamo direttamente il valore di UF che deve avere questo telaio qui e il programma lo riempirà con il lambda necessario stessa cosa per quanto riguarda la vetrata noi qui nella vetrata definiamo lo spessore del vetrocamera ovviamente lo spessore complessivo e il valore di UG quindi inserendo un valore di UG il programma andrà a mettere il lambda adeguato per rispettare questo valore di UG infine l'ultimo elemento è il controtelaio che è questo qua e anche qua noi abbiamo la possibilità di definire gli spessori lo spessore a sinistra lo spessore superiore quindi nel caso avessimo un controtelaio ad L possiamo definirlo anche in questo caso e un eventuale spessore inferiore se avessimo qualche forma di controtelaio ad U viene messo poi insomma anche da questa parte qua quindi diciamo che ho la possibilità di generare dei materiali intorno al telaio in funzione della geometria voluta per quanto riguarda i materiali ovviamente c'è la possibilità di accedere alle librerie e già che ci siamo faccio subito diciamo vi dico subito quali sono le novità ci sono novità anche sulle librerie beh per prima cosa nella libreria ed il clima avrete la possibilità di caricare i nuovi retini quindi con i materiali siccome accede direttamente molte monitor accede all'installazione di EC700 sulla macchina non c'è una libreria a parte va proprio a pescare direttamente dentro l'installazione EC700 i materiali e quindi va a prendersi anche i retini c'è poi un campo cerca che consente di cercare il materiale in tutto il database del clima sia dei materiali di database sia del database utente quindi diciamo che è un campo utile per ricercare il materiale all'interno di tutta la libreria di clima a parte quindi la libreria dei materiali di clima abbiamo sempre la possibilità di avere una libreria personale di salvarsi la libreria personale qui la libreria della norma 10.351 è stata aggiornata al 2021 al 2021 è uscita la nuova 10.351 e quindi qui ci troviamo tutti gli aggiornamenti tutti i materiali anche nuovi e tutte le modifiche che sono state introdotte nella 10.351 10.355 mi pare non sia cambiata e poi abbiamo invece la nuova norma che è la 10.456 diciamo che prima non c'era e abbiamo aggiunto anche questa quindi abbiamo ulteriori materiali presi da altre librerie ok quindi questo ecco facevo riferimento prima alla libreria personale parametrica una volta che io ho definito la mia geometria di posa in questo caso perché sto lavorando sul modello parametrico di posa con tutti i materiali eccetera posso come sapete c'è la possibilità di andare a salvarsi questo modello in una libreria personale e quindi poi in futuro poter riaprire questo modello così modificato e adattato per poterlo riutilizzare poter fare magari ulteriori modifiche o semplicemente cambiare i materiali ma in questo modo io vi ricordo che c'è sempre la possibilità di crearsi un abaco personalizzato parametrico quindi andando a usare la funzionalità salva in formato BRG quindi potete salvarvi tutti i modelli BRG che che andate a definire una questo poi potete insomma navigarlo e andare a vedere più in dettaglio quali sono le diciamo tipologie le altre tipologie le altre possibilità della creazione del modello posa serramento vediamo invece l'altro modello che è quello delle strutture controterra quindi nelle strutture controterra noi abbiamo adesso qui ingrandisco questo abbiamo tra le strutture appunto c'è il pavimento sotterreno e qui abbiamo l'isolamento riferito sempre alla parete l'isolamento interno isolamento centrale senza isolamento isolamento esterno quindi la scelta della posizione dell'isolamento per quanto riguarda la parete poi una volta scelta quindi la tipologia di costruzione della parete abbiamo varie situazioni anche qui non ci sono tutte anzi qui al momento abbiamo messo solamente le strutture direttamente controterra anche se lavorando ovviamente sugli strati di pavimento c'è la possibilità di andare a definire in maniera diversa il pavimento adesso lo vediamo quindi abbiamo pavimento sopra il terreno quindi posa sul terreno del pavimento con balcone e qui in balcone in realtà si intende marciapiede poi effettivamente questa addizione qui è stata mutuata da quelli precedenti ma in realtà parleremo poi di marciapiede insomma di quello che c'è qua ecco e poi con le fondazioni questo è senza fondazioni e poi abbiamo senza con e senza balcone praticamente le variabili sono quelle riportate qua sotto da questi tastini qua abbiamo la possibilità sia di fare il calcolo di pavimenti sopra terra o filo terra e anche da di pavimenti interrati quindi con livello del pavimento interno più basso del pavimento del terreno del livello del terreno quindi diciamo che potrebbe essere il caso più completo probabilmente questo qua in cui abbiamo appunto una definizione di materiali per gli strati del del cordolo no scusate gli strati del marciapiede ho preso quello qui vengono chiamati balconi ma insomma del marciapiede poi quelli della parete la parete contro terra la possibilità di definire il cordolo le fondazioni come altro elemento a parte configurabile e poi ovviamente il vero e proprio pavimento contro terra qui nel pavimento contro terra negli strati del pavimento nulla toglie la possibilità di inserire degli strati ulteriori che potrebbero essere poi definiti eventualmente anche come degli strati d'aria da configurare come strati ventilati parzialmente ventilati o non ventilati quindi diciamo che lavorando sulla composizione del pavimento c'è la possibilità di andare a modificare questa stratigrafia la come sempre poi abbiamo i materiali diciamo per ogni strato la possibilità di definire spessori materiale conducibilità eccetera una una volta definito anche qui ci sono tutti i vari comandi per cercare insomma di ottenere la configurazione voluta con vari offset sia della parete che del cordolo che delle fondazioni c'è ovviamente la possibilità di definire il livello di interramento del pavimento possiamo andare a per esempio metterlo 800 abbassarlo ulteriormente e poi c'è la scelta dell'algoritmo di calcolo ora per chi ha già seguito i corsi sulla posa delle strutture contro terra o comunque conosce la 10211 sa che la 10211 prevede due modalità di calcolo delle strutture contro terra anzi del calcolo della trasmittanza U del pavimento contro terra una modalità è quella utilizzando le formule del 13370 e quindi si va a calcolare la trasmittanza la resistenza e poi la trasmittanza del pavimento contro terra utilizzando le formule e viene chiamato metodo A nella norma 10211 un'altra modalità invece è quella di andare a fare una simulazione a parte del solo pavimento ed eventualmente della sola parete e quello viene chiamato metodo B perché deve essere isolato il pavimento contro terra messo in adiabatico il restante struttura bisogna fare una simulazione a parte e e quindi andare poi dopo a calcolarsi la trasmittanza mediante questa seconda simulazione il questo modello parametrico consente di scegliere le due modalità quindi l'opzione A o l'opzione B a seconda di come si vuole calcolare in realtà poi non è finita qui perché voi sapete che la la norma per il calcolo delle strutture contro terra ha dei limiti dimensionali sulla realizzazione del modello cioè bisogna considerare una lunghezza di pavimento interno alla struttura che sia proporzionale al valore B della misura caratteristica del pavimento e le dimensioni del cubo del terreno devono essere anche quelle realizzate in maniera proporzionale a B quindi 0,5 B per la porzione interna e 2,5 B per la porzione esterna per la misura esterna e per la misura in verticale del cubo per il calcolo del psi questo è possibile definirlo direttamente qui quindi nella definizione delle un attimo solo che deve essere finito sotto no quindi qua mi si apre adesso mi si apre sotto quindi non si se ci riesco così no ok allora qui ho la possibilità di inserire il valore della larghezza del pavimento che è B mezzi per definire una misura del diciamo del pavimento interno che chiaramente dovrà essere proporzionale alla come dicevo alla misura caratteristica cioè la superficie disperdente diviso semiperimetro supponiamo che la mia misura caratteristica sia 5 allora la misura la larghezza del pavimento dovrà essere 2 metri e mezzo quindi in questo caso 2500 2500 è questa misura qua il programma automaticamente va a generare tutte le altre dimensioni del cubo proporzionali a questa misura caratteristica cioè in pratica io una volta definita la larghezza del pavimento interno ho automaticamente vincolato le altre dimensioni larghezza esterna e profondità del cubo perché devono essere proporzionali alla misura caratteristica e quindi anche alla misura del pavimento interno e quindi se questo è 2 metri e mezzo la misura esterna che sarà 5 volte tanto sarà 12 metri e mezzo e 12 metri e mezzo verso il basso quindi diciamo che il programma una volta inserita la larghezza del pavimento corretta che deve essere mi raccomando deve essere giusta nel senso che deve essere b mezzi altrimenti non è più coerente con i calcoli che fa c700 il programma si arrangerà a dimensionare il modello il modello però varia a seconda che io calcoli il valore del psi che è la verifica di muffa per quel motivo in passato nei template c'erano due modelli diversi uno per il calcolo del psi e uno per la verifica di muffa perché nella verifica di muffa secondo la 3C788 io devo mettere due metri di terreno sotto il pavimento e non più 12 metri e mezzo a partire dal livello esterno quindi cambiano le dimensioni del modello per la verifica di muffa il programma si arrangerà a fare i due modelli diversi cioè fa un modello quando deve fare il calcolo del psi di posa e fa un modello diverso quando deve andare a fare la verifica di muffa e condensa quindi capite bene che la cosa è veramente era molto complessa perché non avevamo messo subito il calcolo del diciamo i modellini di calcolo di struttura contro terra parametrici nelle edizioni passate perché richiedono veramente un mucchio di varianti in funzione ai fini di rispettare le normative sia la 10211 che la 13788 che la 13370 quindi per esempio adesso io non so qui cosa abbiamo fatto dove siamo arrivati ma io se io faccio ok qua io mi ritroverò come vedete il modello generato all'interno di Mall Simulator il programma mi ha già messo lui il livello del terreno a due metri di profondità livello però che utilizzerà solamente nella seconda e nella terza simulazione mentre nel calcolo del psi ignora questo livello a due metri di profondità quindi in pratica io qui mi ritrovo già configurato il tutto mi ritrovo gli elementi di sezione per il calcolo della U della struttura fuori terra della parete fuori terra l'elemento di sezione per il calcolo della parete contro terra che però appunto dovrà essere calcolato perché non può essere calcolata dall'elemento di sezione il programma farà delle valutazioni per andare a calcolare praticamente utilizzerà i form della 13 e 370 per andare a calcolare la trasmittanza di questa parete contro terra stessa cosa per questo per questo elemento di sezione che serve per il calcolo del psi poi abbiamo delle aree come vedete inserite automaticamente che servono per il calcolo della trasmittanza del pavimento col metodo B e un secondo elemento di sezione che serve per definire la lunghezza insomma il programma ha generato tutti questi elementi che gli servono per andare a fare i calcoli qui sono state inserite i i contorni e se noi andiamo a fare una simulazione avremo in pratica il calcolo direttamente del ponte termico psi 1 in questo caso abbiamo due valori di ponte termico perché utilizziamo sia la misura interna sia la misura esterna quindi abbiamo i due valori di psi il psi calcolato con le misure esterne il psi calcolato con le misure interne abbiamo il calcolo della trasmittanza U della parete contro terra cosa che prima non era possibile perché bisognava fare una simulazione a parte per trovare questa trasmittanza qui abbiamo il calcolo della trasmittanza U del pavimento contro terra e in particolare se andiamo su avanzato flussi in elementi vedremo qui il calcolo della parete contro terra scusate che si apre un'altra parte e avremo anche i dettagli del calcolo della 13370 con i valori dei parametri richiamati dalle formule quindi l'RVB e il Z che è il valore di profondità del pavimento e per quanto riguarda il pavimento il calcolo del pavimento anche qui abbiamo il valore di B che è la misura caratteristica del pavimento ipotizzata che è 0.5 e il valore di RF che è la resistenza del pacco equivalente quindi 1,40 insomma abbiamo un calcolo effettuato con le formule della 13370 che ci dà la possibilità di ottenere direttamente il valore di psi senza dover fare dei calcoli poi separati per la trasmittanza del serramento oppure per il calcolo della trasmittanza della parete per quanto riguarda invece la verifica di condensa e di muffa abbiamo come vedete sia per la condensa che per la muffa il modello è stato ridotto ai due metri di profondità quindi abbiamo due metri di terreno e e quindi l'analisi viene fatta secondo la 13378 perché a i due metri di profondità il programma automaticamente ha assegnato il contorno terreno cosa che nel calcolo del valore del psi non è utilizzato perché nel modello del psi viene messo l'adiabatico tutto attorno quindi il contorno terreno non viene impiegato mentre nel calcolo della muffa e nel calcolo della condensa si quindi si ha questa generazione del contorno terreno e applicazione a due metri di profondità quindi diciamo che anche questo è un automatismo però scusa se ti interrompo volevo porti due domande inerenti a questi casi che abbiamo visto con il pavimento la prima è la seguente un utente chiede sostanzialmente vorrebbe un ulteriore dell'uscitazione sul discorso della larghezza del pavimento b mezzi e il valore caratteristico b primo quindi se possibile rispondere un attimino questa cosa e un'altra domanda te la faccio già direttamente quindi un'altra cosa da vedere se si poteva entra a vedere l'inserimento di uno strato ventilato penso nella stratigrafia del pavimento quindi un po' un discorso legato ai pavimenti sui bianchi ok grazie allora per quanto riguarda la prima domanda la norma 10.211 per poter calcolare il valore di psi come ho detto chiede che vengano fatte delle misure che ci siano delle misure ben precise nel cubo di terreno per poter fare la simulazione in particolare il modello ai fini del calcolo della trasmittanza lineare deve essere fatto prevedendo un pavimento quello che appunto è contro terra il pavimento del locale riscaldato con una larghezza quindi la misura che va da qua a qua deve essere la metà della misura caratteristica del pavimento B cos'è la misura caratteristica del pavimento B? è un parametro definito dalla norma 13.370 che è quella delle strutture contro terra che rappresenta il grado di dispersione combinata tra la superficie e il perimetro se noi abbiamo un pavimento vedendolo dall'alto in pianta avremo un'area una superficie che disperde attraverso la superficie quindi attraverso il pacco del pavimento ma poi abbiamo una dispersione anche lungo il perimetro di calore quindi sfugge calore sia attraverso l'area del pavimento sfugge calore sia attraverso il contorno il rapporto fra queste due dimensioni viene chiamato misura caratteristica del pavimento e tiene appunto in considerazione quanto incide il perimetro freddo su un'area disperdente in pratica si prende l'area disperdente chiamiamola S e la si divide per metà del perimetro freddo del perimetro posto tra il locale riscaldato e i locali non riscaldati o esterni quello è il perimetro freddo quindi se io faccio S diviso mezzo P inteso come inteso come perimetro appunto freddo ottengo il valore della misura caratteristica cosiddetta del pavimento che è B è un numero che mi serve poi per in questo caso per dimensionare le altre le dimensioni del cubo quindi 0,5B questo 2,5B questa misura qui e 2,5B questa misura qui questo è il modello come deve essere costruito in realtà poi il valore di B misura caratteristica entra anche nelle formule della 13370 che calcolano la trasmittanza in questo caso del pavimento della parete quindi è fondamentale siccome appunto è dato da un certo rapporto di larghezza con dispersione sul contorno io per calcolare se voglio calcolare la trasmittanza di questo pavimento la U di questo pavimento con le formule 13370 devo assicurarmi di aver usato le dimensioni giuste le dimensioni caratteristiche giuste altrimenti non ho quel valore di U che ottengo proprio perché dipende dalla misura caratteristica non sarà più coerente cosa vuol dire questo tanto per capirci che per essere pratici in EC700 c'è il calcolo della trasmittanza U del pavimento fatto con le formule della 13370 in base appunto alla superficie e al semiperimetro freddo quindi alla misura caratteristica del pavimento quindi utilizzando EC700 vi esce vi ritrovate un valore di U del pavimento contro terra quel valore di U deve essere lo stesso anche quando calcolato in in Mall Simulator o perlomeno deve essere molto simili insomma lasciamo perdere i centesimi o i millesimi ma insomma lo scopo è quello di ottenere un valore di U in Mall Simulator che sia il più preciso il più simile possibile al valore di U ottenuto in EC700 perché solo in quel modo il valore di psi che otterremo sarà congruente perché vi ricordo che il valore di psi del ponte termico lineare psi è dato dal flusso reale che passa tra l'ambiente riscaldato e quello esterno e quello viene contabilizzato da Mall Simulator mediante l'analisi termica cioè da tutto questo valutazione dei flussi eccetera eccetera il programma trova quanto calore esce che è il valore di L2D che è questo sottraendo il valore di U per L che sono le trasmittanze il flusso disperso dalle superfici omogenee senza ponte termico io per differenza trovo il valore di psi quindi psi è uguale a L2D meno sommatoria di U per L è chiaro che per avere un valore di psi corretto io devo avere un valore di sommatoria di U per L corretto congruente quindi quando Mall Simulator trova il valore di psi lo trova in base alla sommatoria di U per L che è L1D che deve essere la stessa cioè utilizzare lo stesso valore di U che usa EC700 altrimenti io troverei un valore di psi che non è coerente con i valori di U 10700 quindi in definitiva l'importanza di realizzare un modello che sia proporzionale alla misura caratteristica del pavimento serve per due motivi uno per realizzare un cubo di terreno con delle dimensioni corrette per contabilizzare correttamente il valore di L2D quindi questo valore qui che dipende dalle misure del cubo e l'altro motivo per cui devo attenermi al valore di B alle proporzionalità di queste dimensioni è perché le trasmittanze U calcolate per il pavimento contro terra e in questo caso anche per la parete contro terra dipendono da questa misura caratteristica del pavimento quindi è un parametro fondamentale per il calcolo corretto del valore di psi del ponte termico delle strutture contro terra non è invece fondamentale per la verifica di muffa e condensa perché che io faccia questo pavimento più lungo più corto alla fin fine siccome il mio punto critico è qui nello spigolo non andrà ad alterarmi i flussi quindi i flussi termici non dipendono dalla misura caratteristica del pavimento cioè le temperature però in quel caso quello che interviene fondamentalmente sulle temperature degli spigoli interni dove si forma muffa e condensa è la temperatura del terreno cosa che viene ignorata invece nel calcolo del psi perché nel calcolo del psi si guarda solamente il flusso in uscita dall'ambiente caldo verso l'ambiente freddo invece nell'analisi delle temperature superficiali muffa e condensa si tiene conto dell'effettiva temperatura dello stato della mia geometria tra cui appunto c'è anche la temperatura del terreno e in particolare della temperatura che il terreno ha a due metri di profondità qual è la temperatura definita a due metri di profondità ce lo dice la 3C788 con l'algoritmo di calcolo del contorno terreno quindi quando io vado nel contorno terreno ho il programma fa il calcolo automatico delle temperature che io posso vedere ecco un'altra novità già che ci siamo della 6 prima bisognava andare in visualizza contorni utilizzati abbiamo messo questa icona qui che cliccando qui mi dice già immediatamente cioè mi mostra subito quali sono i valori dei contorni si apre l'altra parte quindi per esempio se io vado su muffa ai 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 mi si è riaperto di qua devo spostarlo di qua eccolo qua quindi per la muffa io ho no qui non mi mostra il terreno perché non lo ha ancora contabilizzato e calcolato lo devo vedere alla fine quindi devo andare a vedere a far andare a vederlo le temperature nella simulazione direttamente qua quindi io avrò qui la le temperature interno terreno e qui ho le mie temperature medie mensili a due metri di profondità del terreno comunque quindi rispondendo ci ho messo molto più di quello che pensavo la relazione dimensionale del modello quindi la dimensione del pavimento la dimensione del cubo e i due metri di profondità nel caso di verifica muffa e condensa sono fondamentali e dipendono dalla misura caratteristica del pavimento per quanto riguarda l'altra domanda invece degli strati degli strati di cavità o di intercapedini ventilate semi ventilate non ventilate eccetera eccetera quello è un discorso molto molto complesso mi spiace mi spiace perché capisco la vostra situazione in cui voi dovete fare mille cose e andare a perdere la vita intorno a come il calore gira attraverso le strutture veramente il tempo è tiranno per tutti ma mi spiace darvi questa notizia qualora non ve lo vi siate già resi conto che la realtà è maledettamente complicata per quanto riguarda la termica e quindi quando abbiamo a che fare con materiali solidi bene o male insomma sì le cose sono complicate perché basta vedere qui andare a capire tutte queste freccioline il fatto che girino da una parte o girano dall'altra cambiano completamente i conti però lo scopo nostro è quello proprio di andare a capire cosa succede da un punto di vista termico nella struttura se non ci fossero i ponti termici il mondo sarebbe semplicissimo sarebbe addirittura banale perché avrei del calore che entra in una superficie se ne va giù dritto dall'altra parte va fuori dritto e quindi non avrei proprio non esisterebbe il programma mol simulator perché sarebbe veramente banale calcolare come il calore si muove da una parte all'altra ma purtroppo invece la realtà è fatta da da disomogeneità da complessità e che fanno sì che il calore come vedete faccia mille strade diverse piuttosto che andarsene fuori dritto e quindi queste strade che fa il calore devono essere in qualche modo studiate e interpretate e dal percorso che fa il calore dipendono i risultati quindi l'idea l'ipotesi il desiderio di schiacciare un pulsante e ottenere il numerino che ci serve in ogni situazione ad oggi è un'idea ancora molto lontana a venire noi ci lavoriamo sono 14 anni che ci lavoriamo su questa roba qua andremo avanti ancora cercheremo sempre di implementare sempre di più però nel frattempo il calore fa le strade che vuole ora quando noi introduciamo una variabile fluida che è quindi un'aria un'intercapedine un gas eccetera eccetera introduciamo una variabile ulteriore quindi tutta sto pippolone per dire cosa che se io qui in questo strato qui invece che avere quello che adesso è indicato genericamente come materiale 05 ho un intercapedine ho due situazioni che sono affrontabili quindi direi che sono tre le situazioni ma ne ho una che invece ci sta chiedendo ancora dello studio e del di trovare un modo perché le soluzioni c'è ma ovviamente io quando dico trovare una soluzione praticabile è quella di avvicinarci a quel premere un pulsantino e avere la risposta allora quali sono le le soluzioni la prima la più semplice è che qui ci sia dell'aria immobile e quindi la cavità non sia ventilata cioè non è immobile perché la convettività ce l'ho sempre ma se non altro non ho inquinamenti di calore dall'esterno è tutta chiusa dentro ho un'intercapedine non ventilata e fra l'altro è un'intercapedine non ventilata con uno spessore inferiore ai 300 mm qua sono 100 mm quindi se io qui ho un'intercapedine non ventilata di spessore inferiore ai 300 mm posso trasformare o considerare questo spazio qui come un materiale un materiale un po' subdolo un po' che si muove non è un materiale però un materiale al quale io posso attribuire un lambda e quindi trasformarlo in uno strato qualsiasi come se fosse un altro strato di materiale e andare a farmi il calcolo del pacco del pavimento considerando questo ulteriore strato di materiale quindi intercapedine non ventilata intercapedine non ventilata la norma 6946 prevede due modalità di calcolo una molto accurata molto precisa e quella che noi troviamo qui nel materiale speciale cavità 6946 non ventilata la assegniamo qui e diciamo bene calcolala allora cosa farà il programma andrà ad analizzare questa intercapedine applicando le formule abbastanza complesse della 6946 che prevedono che io conosca anche le temperature alle superfici perché in funzione delle temperature che io ho qui e qui ho un certo andamento della parte convettiva e quindi le resistenze vengono calcolate poi tenendo conto che come abbiamo visto ho dei flussi che girano in mille direzioni diverse il programma terrà conto in effetti che un conto è la resistenza sull'asse X che trova quando il calore viaggia orizzontalmente un conto è la resistenza che trova quando viaggia verticalmente quindi dovrà scomporre il vettore di calore in due componenti andare a calcolare due resistenze separate e insomma ci abbiamo messo due anni a sviluppare gli algoritmi per calcolare correttamente le intercapedine o le cavità utilizzando diciamo questo metodo se noi andiamo a fare il calcolo in questo modo otterremo un calcolo della intercapedine molto accurato che ripeto tiene conto anche delle temperature che il programma conosce quando fa le iterazioni un po' alla volta conosce quali sono le temperature all'interno della struttura e quindi le usa anche per calcolare la resistenza della cavità dell'intercapedine questo però ha un problema al di là del fatto che io sia un controterra o meno ma del fatto che quando vado a fare il calcolo della trasmittanza di questo pavimento il valore della trasmittanza di questa intercapedine appunto varierà a seconda di come è stata calcolata non è prevedibile a priori e fra l'altro potrebbe anche cambiare a seconda se io calcolo la trasmittanza qui se io calcolo la trasmittanza qui perché ovviamente la resistenza di questo intercapedine in teoria mi varierebbe in ogni punto visto che varia la direzione dei flussi ma io posso anche prendermi un valore medio per esempio fatto sta che ho uno strato con una resistenza con un lambda equivalente calcolabile solo da mol simulator perché solo mol simulator conosce le temperature interne in fase di modellazione e va benissimo se io devo fare la verifica di muffa e condensa perché avrò una verifica di muffa e condensa con un calcolo di questa intercapedine molto accurato con le temperature quindi io ottengo un profilo di temperature superficiali che tengono conto in maniera molto precisa anche di questo strato qui ma se voglio fare il calcolo del psi mi ritrovo nel problema che vi ho detto prima che il valore di u calcolato da mol simulator sarà diverso dal valore di u calcolato da ec700 perché ec700 non fa la modellazione in tempo reale non conosce le temperature insomma non ha tutti quegli algoritmi di calcolo delle intercapedine che abbiamo sviluppato quindi non può fare il calcolo nessun altro software può fare un calcolo dell'intercapedine con una precisione così elevata il fatto sta che il lambda qui sarà diverso quindi la u sarà diversa e essendo la u diversa il psi che io ottengo da mol simulator non sarà coerente con le u che usa ec700 quindi ho bisogno di usare lo stesso valore qui che utilizza il c700 almeno per il calcolo del psi almeno per quello insomma quindi fino alla versione 5 non era possibile adesso invece abbiamo inserito il metodo di calcolo semplificato delle intercapedine e quindi abbiamo la possibilità di andare qui nelle materiali standard quindi chiamare per esempio intercapedine non ventilata e andare a fare un calcolo della resistenza e quindi del lambda secondo le formule semplificate della 6946 perché la 6946 ha anche una tabellina dove dà i valori semplificati rendendosi conto che non tutti hanno molto simulato per calcolare le intercapedine come l'abbiamo fatto allora qui basterà cliccare qua andare sul calcolo strato d'aria non ventilato qui adesso purtroppo mi si apre vediamo se mi si apre sotto come al solito dov'è che adesso ce l'ho vabbè si apre una finestrella vediamo di ritorniamo qua un problema di visualizzazione che mi scompare la finestra comunque io ho la dicevo che devo metterlo spessore spessore in questo caso è proprio 100 mm devo mettere lo strato d'aria non ventilato e quindi mi calcolerà lui il valore dell'intercapedine non ventilata e quindi mi inserirà il valore di conducibilità qui e quindi ho la possibilità di replicare qui il calcolo del lambda per un intercapedine non ventilata nel nel caso e fare un modo insomma che venga un calcolo coerente con il calcolo che fa il C700 l'altra situazione quella in cui io ho invece qui una intercapedine ventilata allora qui se è ventilata io qui per forza devo metterci poi un contorno quindi io potrei andare giù di brutto e dire per me se è ventilata e fosse fortemente ventilata con la bocca di presa proprio qui potrei dire io qui ho l'aria esterna direttamente l'aria esterna che però avrà una resistenza che potrebbe essere diversa perché l'esterno che ho qua c'è una resistenza 004 calcolata con la con la velocità del vento di 4 metri al secondo fuori come anche qua poi non si riapre purtroppo le finestre mi si aprono sotto e non riesco va bene vediamo se poi riesco magari a ridurle qua spostiamo questo qua facciamo così e forse riesco a far venire fuori anche le finestre vediamo un po' qua sotto devo spostare questo allora va bene dovrei riuscire a di fare ecco qua quindi se io clicco qui anzi facciamo così non uso l'esterno mi genero un contorno apposta anzi posso clonare clonare l'esterno che mi servirà solo per l'intercapedine quindi io lo calcolo come intercapedine ventilata vado a dargli un colore diverso la metto qua dentro e per calcolare la resistenza ecco qua che la resistenza superficiale adesso quella che ho applicando qua è un po' diciamo è un po' diversa rispetto a prima rispetto alla versione 5 perché ho la possibilità di inserire anche lo strato d'aria quindi io gli dico strato d'aria ben ventilato nello strato d'aria ben ventilato lui mi chiede la temperatura e io qui potrei ipotizzare che di avere una una certa temperatura diversa da da zero gradi quindi potrei avere che ne so mettermi una situazione intermedia 10 gradi e e quindi andare a calcolare la resistenza di questa intercapedina qua in funzione della temperatura che ipotizzo di avere in questa situazione questa ovviamente è tutto un altro mondo cioè sapere che temperatura si formi esattamente qua sotto dipenderebbe fare una una modellazione reale di come il flusso d'aria gira sotto il pavimento insomma diventerebbe una cosa da fluido dinamica comunque questo è l'altro caso quando io ho una intercapedine ventilata il terzo caso che si assomiglia a questo è quando io ho un'intercapedine ventilata o meglio non ventilata scusate che però sia maggiore di 300 mm allora se è maggiore di 300 mm io non ho più la possibilità di calcolarla con come uno strato d'aria con la 6946 tanto per capirci se io questo lo dovesse avere una cosa del genere dove ho 70 cm di intercapedine non potrei più andare adesso qui mi si è riempita ho preso quello sbagliato facciamo finta che sia questa l'intercapedine se io avessi adesso riempio qualcosa se io avessi un'intercapedine di questo tipo anche se è ventilata non posso più calcolarla con le formule della 6946 perché arrivano fino a un massimo di 300 mm quindi io qui dovrei applicare un contorno come previsto come forse un ambiente non riscaldato praticamente rientro nelle casistiche degli ambienti non riscaldati è come se avessi un garage qua sotto di soli 70 cm ma alla fin fine il mio problema sarà quello di definire un contorno assegnargli una temperatura o un rapporto diciamo renderlo proporzionale alle temperature interne esterne ma in ogni caso il mio pavimento a questo punto diventa aria su aria come se come fare un calcolo di un pavimento su un garage insomma identico non mi cambia niente l'ultimo caso invece è quello più ad oggi ancora oggi molto complesso da calcolare è quello in cui io abbia un intercapedine qui parzialmente ventilata allora noi abbiamo sviluppato con la versione 6 vi farò vedere poi la possibilità di fare un calcolo per le cavità parzialmente ventilate il problema però delle cavità parzialmente ventilate contro terra è che il calcolo della cavità parzialmente ventilata prevede di conoscere la resistenza degli strati successivi alla cavità verso l'esterno ma io avendo terreno non conosco quant'è la resistenza che oppone il terreno al flusso cioè devo andare a fare il calcolo della trasmittanza del pavimento contro terra a quel punto lì conoscendo la trasmittanza del pavimento contro terra con le formula 370 conoscerò la resistenza complessiva del pacco però il problema è che se io ho una cavità parzialmente ventilata appunto il calcolo lo devo fare facendo prima un calcolo di una cavità non ventilata e un calcolo di una cavità ventilata e poi trovando il valore della resistenza complessiva che deriva da queste formule insomma non entro ulteriormente in dettagli ma vi dico solo che ci stiamo lavorando sicuramente prima o poi pubblicheremo la funzionalità che calcola anche le intercapedini di pavimento contro terra parzialmente ventilate ma al momento questo tipo di calcolo è estremamente complesso perché appunto prevede dover andarsi a fare dei calcoli separati e poi andare a ricavare qual è il valore della resistenza nelle varie situazioni poi andare a calcolarsi un valore di conducibilità conducibilità diciamo apparente o equivalente dello strato parzialmente ventilato ma poi di assegnargli anche una temperatura perché non basta lì cioè la temperatura che io ottengo nelle interfacce di questo strato se è parzialmente ventilate non dipende più dal passaggio di calore solamente quindi dall'analisi termica di come il calore transita attraverso questa intercapedine ma dipende dall'iniezione di aria a diversa temperatura che ho nell'intercapedine perché essendo parzialmente ventilata vuol dire che ho una parziale emissione di aria esterna che si mescola con l'aria interna e quindi ho un inquinamento della mia temperatura della stratigrafia che avrei normalmente con un elemento esterno e quindi insomma vi do appuntamento alle prossime puntate non vorrei perdere altro tempo su questa cosa qui vi faccio invece vedere quali sono le altre modifiche al programma perché non è finito qua insomma allora facciamo così ripartiamo chiudiamo tutto perché e ripartiamo dal riaprendo il programma dall'inizio prendiamoci pure un caso classico cioè un template di default e andiamo a vedere quali sono le altre novità allora per prima cosa andrei nelle impostazioni del programma nelle impostazioni del programma ah no la prima cosa in assoluto quella che veramente anche lì ci abbiamo dedicato tantissimo tempo sono questi punti di domanda qui cioè l'aiuto online la documentazione online anche questo è un qualcosa che sono 14 anni che diciamo dobbiamo fare migliorare il manuale la documentazione online eccetera eccetera finalmente l'abbiamo fatta quindi voi troverete in diversi punti schermate nelle varie pagine la documentazione oppure ci potete andare sempre anche dal menu aiuto cliccando sul punto di domanda vi si aprirà la documentazione che abbiamo messo online perché in questo modo possiamo manutenerla immediatamente molto più facilmente che non attraverso gli aggiornamenti perché altrimenti prima bisognava fare degli aggiornamenti dei programmi per cambiare la documentazione invece adesso voi finite su delle pagine online dove tutte le funzionalità ma questa volta proprio tutte tutti i comandi tutte le opzioni che trovate nel programma le trovate elencate qui quindi qui dentro voi troverete molte più pagine di prima con ogni comando descritto cioè la funzionalità viene spiegata viene descritta quindi avete di che legge quando vi trovate in un punto e non capite cosa fa una scritta una funzione un flag un'icona rimette sul punto di domanda e finirete dentro nel punto in cui lo spiega poi abbiamo aggiunto tutti i nuovi tutorial allora questi sono quelli di frame simulator che potete sempre andarveli a vedere ma poi abbiamo aggiunto questi tutorial di mall simulator sono video tutorial nuovi quindi non sono più quelli vecchi di prima che erano fatti con le versioni vecchie sono tutti realizzati con la versione 6 spiegano vi consiglio siccome l'abbiamo fatti sia in italiano che in inglese ma a livello di traduzione vi suggerisco quando voi guardate il tutorial di andare a settare magari la prima volta la velocità di riproduzione mettete una velocità di riproduzione più bassa in modo da seguire pian pianino perché mano a mano che poi le cose si conoscono la velocità può andare bene ma all'inizio magari mettete 0.5 0.75 come velocità in modo da andare più lentamente poi per quanto riguarda i sottotitoli dove danno le spiegazioni ovviamente impostate i sottotitoli in italiano se volete quindi avete la possibilità di vedere tutti degli esempi spiegati con le scritte con dei tutorial che riguardano direi pressoché quasi non dico tutto ma insomma tutto quello che serve quindi c'è il calcolo di base del psi c'è il calcolo il tutorial per il calcolo di posa semplificato con bridge generator senza bridge generator in un modo o nell'altro poi dopo lo vediamo il ponte termico su tre ambienti il tutorial per il controterra i contributi separati dei psi con i fattori U questo c'era anche prima ma l'abbiamo modificato il calcolo anche qui delle strutture controterra l'analisi della condensazione eccetera e tutto il tutorial sugli strati d'aria sul calcolo dei strati d'aria ventilati parzialmente ventilati per strutture omogenee e non ventilati con appunto con mod simulator ci sono riportati qui i file di esempio quindi potete i file utilizzati nei tutorial sono riportati qua quindi potete andare a caricare i file di esempio disponibili e lavorarci su e ecco quindi direi che avete l'occasione per per vedere veramente un bel po' di roba rispetto al passato chi ha la versione 3d ha anche tutta una serie di tutorial nuovi sul calcolo 3d e vedrete che c'è veramente tanta tanta roba nuova nel calcolo tridimensionale quindi e poi eventualmente potete dare un'occhiata anche al calcolo di frame simulator in particolare magari non vi può interessare il calcolo dell'UF dei telai ma è molto probabile che vi interessi il calcolo dei cassonetti perché questo ovviamente è fatto con frame simulator ma la teoria del calcolo del cassonetto alla fin fine incide anche nel nel calcolo della posa perché se avete un cassonetto posato su struttura poi ne vediamo uno avrete a che fare sulle modalità di calcolo delle intercapedine e quindi magari può essere interessante dare un'occhiata al tutorial sul calcolo del cassonetto quindi documentazione dicevo che oltre alla documentazione nel menu visualizza impostazioni ci sono alcune novità anche qua in particolare beh ve le ricordo anche magari se c'erano anche negli ultimi aggiornamenti della versione 5 comunque vi ricordo la necessità di definire la zona climatica o di default o utilizzare l'ultima che avete utilizzato nel calcolo precedente poi ovviamente potete sempre cambiarla all'interno del progetto però come comportamento generale dipende se volete sempre partire con la stessa zona climatica oppure con quella nuova qui qui nel graphic user interface a parte la scelta del vediamo se qui no qui sono le stesse dimensioni impostazioni che c'erano già prima qui nella simulazione invece avete la possibilità di definire a parte la qualità predefinita per il calcolo che normalmente alto va bene potete mettere su molto alto se è necessario ma insomma per il calcolo normale la qualità alto va bene ma avete la possibilità di definire nel resistenza superficiale interna se utilizzare ISO 6946 semplificato o ISO 6946 o al limite valori costanti cioè ogni volta che fate un nuovo progetto quale resistenza superficiale interna di default poi la potete sempre cambiare ma insomma vi propone vi ricordo che siccome il C700 utilizza i valori 013 010 017 quelli della ISO 6946 semplificata al fine di mantenere la coerenza il discorso che ho fatto prima con i valori di U calcolati da Mold con i valori di U calcolati da EC700 e quindi far sì che calcogliate dei psi che sono coerenti con le U di EC700 dovete usare ISO 6946 semplificato come interna perché ISO 6946 fa il calcolo della resistenza superficiale tenendo conto anche delle temperature superficiali quindi vi troverete delle resistenze che possono variare da punto a punto lungo il contorno va benissimo di nuovo lo stesso discorso delle cavità per il calcolo diciamo di precisione ma per un calcolo di coerenza con tra U e psi insomma è necessario che i valori di U siano gli stessi di EC700 quindi utilizziate ISO 6946 semplificato quindi di default troverete impostato ISO 6946 semplificato poi c'è una scheda dedicata all'interfaccia con ediclima dove c'è la possibilità di definire sempre qui a livello di default se quando viene esportato il calcolo da mold a ediclima quindi viene rimandato indietro il calcolo se come immagine che verrà messa nell'immaginetta del calcolo del ponte termico se usare l'impostazione automatica il programma cercherà di volta in volta di dimensionare di dare un'immagine che sia la più la migliore possibile oppure se utilizzare tutta l'immagine che avete a schermo quindi la completa estensione del disegno oppure se utilizzare esattamente l'immagine che avete sullo schermo in quel momento cioè una volta fatto il calcolo se voi mettete su attuale lui manderà indietro la dimensione zoomata o non zoomata a seconda di quella che avete sullo schermo per quanto riguarda invece l'esportazione della vista avete la possibilità di esportare quindi sempre di mandare ai C700 il risultato del calcolo l'immagine di cui sopra o la vista isoterme o la vista temperatura quindi anche qui avete la possibilità di scegliere che tipo di immagine rimandare e del clima struttura del viewport qui non c'è novità snap neanche coloro neanche larghezza e unità neanche sono le solite avvisi ci sarà qualche avviso dentro in più che potete deselezionare o riselezionare quei messaggi che escono di tanto il backup il template beh del template vi ricordo che c'è la possibilità di utilizzare un progetto già fatto come template in aggiunta ai template che si aprono all'inizio cioè se voi fate riferimento a un file qui ogni progetto nuovo che fate userà quel progetto lì che avete salvato e che avete specificato qui come template quindi è un'ulteriore possibilità invece i tags nei tags voi potete inserire i valori che compariranno sui report in alto a destra sui report quindi avete questi tre campi qua più il logo che potete caricare qui eventuali ulteriori tags a disposizione però dovrete crearvi le etichette apposta questi non sono utilizzati nei report standard potete però utilizzarli se inserite delle etichette che fanno riferimento a questi campi quindi se voi volete personalizzare dei report avete a disposizione praticamente sette sei campi dati da utilizzare più un logo un file immagine diciamo questa è la nelle impostazioni poi qua in alto c'è nella misura distanze c'è la possibilità adesso di definire con che modalità calcolare le distanze quindi automatica sceglierà l'unità di misura migliore o sempre in millimetri o in centimetri o in metri quindi se voi per esempio mettete automatico vedete che partite con i millimetri poi a un certo punto vabbè qui non c'è dentro niente ma se io mettessi questo vado in pratica troverete che lui utilizzerà in alcune situazioni passa ai centimetri e poi a un certo punto switcha sui metri ecco qui adesso per esempio siamo sui centimetri e se vado qui passa ai metri quindi in pratica diciamo questa è una comodità per adeguare l'unità di misura abbiamo inserito una una possibilità di ruotare linee e vertici prima c'era la possibilità di ruotare totalmente solamente il disegno completo in questo caso invece avrete la possibilità di andare a modificare solamente o singoli vertici o porzioni del disegno quindi per esempio se io voglio ruotare solamente questo rettangolo qui clicco su ruota scelgo il centro di rotazione scelgo il raggio praticamente quindi supponiamo di prendere questo raggio qui e poi posso ruotare il porzione del disegno posso anche intervenire sempre da tastiera premendo il tasto invio e inserire il valore direttamente da tastiera in questo caso vi ricordo che 90 gradi va nel senso anti-orario quindi 90 gradi 180 eccetera quindi a livello di strumenti c'è questa modifica poi un'ulteriore modifica è quando io seleziono la direzione flusso di calore me la ricorda qua in basso c'è una freccia qua in basso che me la ricorda questo era perché molte volte quando arrivavo nei contorni non mi ricordavo più se avevo messo il flusso orizzontale dal basso verso l'alto eccetera eccetera quindi dovevo tornare qui guardare quale icona avevo scelto e poi andare nei contorni adesso avete sempre questa icona qui che vi dice qual è stata la direzione del calore che avete impostato altre cose la facciamo così facciamo togliamo questo magari mettiamo un quattro strati da 2000 una parete con che ne so 15 esterno 100 2 50 e 10 così e quindi qui io adesso scelgo questa è una parete quindi vettore di gravità entrante nello schermo l'interno lo metto da sta parte qua quindi interno al basso esterno dall'alta e andiamo negli elementi di sezione gli elementi di sezione allora capita ancora spesso che molti abbiano dei dubbi sull'utilizzo degli elementi di sezione quando metterli dove metterli come metterli eccetera eccetera allora l'elemento di sezione è uno strumento che adesso con la versione 6 ha addirittura molte più funzionalità di quelle che aveva prima come vedrete anche dai video tutorial ma fondamentalmente per quanto riguarda il calcolo del psi cioè quando usiamo l'elemento di sezione cioè la croce per calcolare il psi la regola dipende sempre da quello che ho detto prima cioè che il valore del psi è uguale al flusso totale contabilizzato da molti simulator in base a quello che avete disegnato alla geometria ai materiali che avete inserito lui fa tutte le modellazioni il meshing cioè la la modellazione significa proprio che lui valuta come il calore si muove alla fine calcola quanti sono i watt che sono passati da una parte all'altra questo è il valore di L2D su un piano bidimensionale quindi quello è il valore che il calore che passa totalmente dall'interno all'esterno voi a quel calore lì dovete sottrarre quello che già viene contabilizzato dal software di termica nel nostro caso del C700 quindi se io avessi una parete di questo tipo il C700 andrebbe a contabilizzarmi il valore di U di questa parete e mi calcolerà una supponendo appunto che l'interno è di qua e l'esterno di là mi contabilizzerà un flusso disperso da questa parete che sarà pari a U alla trasmittanza di questa parete per l'area di questa parete quindi adesso qui ragioniamo in bidimensionale quindi non ho l'area non ho la terza dimensione entrante nello schermo è unitaria vale 1 quindi per me è la larghezza quindi se io prendo la U e la moltiplico per la larghezza questo è il flusso disperdente omogeneo di un metro di altezza di questa parete senza ponti termici e questo viene già calcolato da il C700 cioè il C700 nelle dispersioni contabilizza le dispersioni di superficie tutte le U moltiplicate per le aree per tutte le superfici omogenee il problema qual è? che se io non avessi ponti termici basta non avrei da fare nessun calcolo non dovrei mettere nessun elemento di sezione tutto quello che contabilizza il C700 e tutto quello che serve ma se io ho un ponte termico dentro supponiamo di avere dentro un pilastro qui da qualche parte e se io ho questo pilastro qui evidente che non mi vale più che la trasmittanza U moltiplicata per la lunghezza è veramente tutto il flusso che esce perché in realtà questo pilastro genera un disturbo e quindi il flusso che esce è diverso sarà maggiore perché le disomogeneità comportano sempre un aumento di flusso quindi oddio sarà maggiore potrebbe in effetti essere minore qualora avessi qui un isolante rispetto a una struttura molto disperdente ma normalmente insomma è maggiore quindi io il programma mi troverà tutto il flusso che esce dall'interno verso l'esterno e C700 mi toglie il flusso omogeneo e quindi per differenza il programma troverà il valore di psi che sarà appunto tutto il flusso che esce l'2d meno il flusso contabilizzato dai C700 che è u per l e facendo questa semplice differenza matematica l2d meno u per l io ottengo il valore di psi allora qual è il problema cioè il problema non è un problema ma è chiaro che se l2d il programma lo conosce io devo dirgli qual è il valore che C700 già contabilizza e glielo dico con l'elemento di sezione gli dico guarda che EC700 contabilizzerà un flusso che disperdente da qui a qui quindi gli dico la lunghezza e qua gli do anche un nome perché poi mi serve quindi gli dico EC700 considera una superficie disperdente da qui a qui sono l'elemento di sezione è il braccio quello con le due linee quello è la lunghezza della superficie disperdente contabilizzata dal software di termica quindi non da molti in metro il molto molto prende solo atto che voi avete un software di termica che considera disperdente tutta questa lunghezza qui va bene prende altro poi dovete dirgli anche la U perché lui deve sottrare U per L dall'L2D e gli dite guarda che EC700 considera la U della parete disperdente in questo caso la considererebbe qui cioè andrebbe a calcolare la U su tutti gli strati che sezionano questo braccio qui che interrompono questo braccio quindi praticamente da qui a qui tutti questi strati che lui trova è chiaro che EC700 non calcola la U della parete qui perché è in corrispondenza del pilastro la calcolerà qui la calcolerà qui cioè dove c'è una stratificazione normale quindi lo devo spostare questo lo devo tirar via dal pilastro ecco questo elemento di sezione non fa altro che dire al programma guarda tu trovami l'L2D cioè tutto il flusso che passa attraverso sta parete tirami via però da questo L2D il valore che già contabilizza EC700 che è U che verrà calcolata in funzione degli strati qui e delle resistenze superficiali che troverete qui quindi il valore di U calcolato qui moltiplicato per tutta questa lunghezza disperdente qui quello è il valore della struttura omogenea che EC700 già contabilizza toglilo la differenza sarà il psi che sto cercando quindi la la regola fondamentale per assegnare gli elementi di sezione è primo ci va un elemento di sezione su ogni superficie disperdente o considerata tale dal vostro software di termica quindi del C700 se voi avete una parete una superficie che non è disperdente per esempio una parete di un locale non riscaldato verso l'esterno quello non è una parete disperdente una parete di un local di un garage verso l'esterno voi lì non l'andate a contabilizzare come disperdente quindi lì l'elemento di sezione non ci va gli elementi di sezione vanno solo su quelle superfici che disperdono calore primario quello contabilizzato insomma prima quindi la prima regola è un elemento di sezione su ogni elemento disperdente di struttura poi lunghezza del braccio dell'elemento di sezione quello a doppia linea deve essere pari alla superficie disperdente contabilizzata dal vostro software di termica quindi dovete interrogarvi e dire ma il C700 come considera sta parete o sto solaio o sto tetto disperdente su che lunghezza di superficie e quella lunghezza sarà esattamente la lunghezza che voi dovete imporre all'elemento disperdente all'elemento di sezione quindi la lunghezza non la decidete voi non la decido io non la decide MolSimulator la lunghezza l'ha già decisa il vostro software di termica quindi nel caso specifico il C700 il braccio questo invece andrà posizionato dove è rappresentativo degli strati che servono per calcolare la U quindi semplicemente queste tre regole un elemento di sezione su ogni superficie disperdente che abbia la lunghezza pari alla superficie disperdente considerata dal software di termica e con la U calcolata nel punto rappresentativo appunto di quella U che verrà utilizzata dal software di termica tanto per capirci se per caso io qui avessi una porzione una stratificazione diversa cioè che per qualche motivo io qui avessi dentro un altro strato è evidente che il vostro software di termica il C700 non userà la stessa U qui qui quindi avrete due valori di U se avete due valori di U dovete mettere due elementi di sezione un elemento di sezione per ogni valore di U che contabilizzate quindi avrete bisogno di due elementi di sezione dove è uno dove è l'altro non lo so dipende dal software di termica considera la U della parete di sinistra fino a metà pilastro può darsi se è così metterete un elemento di sezione che vada qua e un altro che vada fino a qua quindi qua avrete un altro elemento di sezione e avrete due valori di U chiaramente una calcolata qui e una calcolata qui uno moltiplicato fino all'interasse del pilastro e uno moltiplicato l'interasse del pilastro quindi il programma cosa farà calcolerà l2d complessivo che è sempre diverso perché ci abbiamo aggiunto uno strato dall'l2d complessivo tirerà via la U per L fin qua la U calcolata qui per L fin qua e quello che resta è il valore di psi di questo pilastro qui lo volete mettere metà di qua metà di là o volete vi va bene tenerlo come valore unico non lo so vedete voi il programma venne da uno di psi che è ovviamente il ponte termico qua poi se lo volete associare a metà parete di sinistra e a metà parete di destra vedete voi ora questo è per tornare una volta di più sugli elementi di sezione come vedete qui sono state aggiunte delle frecce queste frecce qui vi indicano il senso con cui il programma Mall Simulator va a contabilizzare gli strati cioè voi vi troverete in questo caso quando andiamo a fare il calcolo troverete prima questo intonaco qua poi dopo questo poi dopo questo e poi questo qui invece visto che l'abbiamo messo in questo senso troverete prima questo prima questo e poi questo quindi l'elenco degli strati seguirà questa direzione fra l'altro anche se fate glaser e questo è l'altro utilizzo degli elementi di sezione perché non solo calcolano la U ma fanno anche glaser volendo lungo questo piano di sezione e quindi anche glaser vi mostrerà gli strati le interfacce in questo senso invece questo in questo senso se li vogliamo allineare se li vogliamo tutti e due dalla stessa parte ora inserisco l'elemento di sezione generandolo prima da sinistra verso destra invece che da destra verso sinistra oppure semplicemente faccio doppio clic sull'elemento di sezione mi si apre la schermata completa dell'elemento e qui ho il pulsantino inverti risultati quindi inverti risultati mi rovescia l'elemento di sezione quindi facendo così vedete che adesso sono tutti e due dalla stessa parte e avrò tutti e due gli elementi di sezione che elencano gli strati nello stesso ordine quindi a partire dall'interno verso questo quindi questo è la funzionalità poi altro utilizzo degli elementi di sezione come abbiamo visto qui abbiamo la possibilità a parte alcune altre cose è stata diciamo ulteriormente migliorata l'analisi di campionamento cos'è l'analisi di campionamento la possibilità di andare a ottenere un profilo termico in qualsiasi punto della struttura supponiamo che io per qualche motivo voglia ottenere l'andamento della temperatura lungo questo lungo questo asse qua per mie bizze che ne so io ho la necessità di sapere come varia la temperatura qui in questa direzione qua allora cosa faccio inserisco un elemento di sezione ricordo che è il piano questo quindi se io lo devo inserire tengo premuto la barra spaziatrice per poterlo muovere per esempio inserisco un elemento di sezione così ecco che lui qui mi genera questo asse è questo l'asse che mi dà il profilo quindi io innanzitutto me lo sposto dove voglio metterlo poi lo posso eventualmente ruotare mettendolo in una posizione che mi vada bene poi lo allungo e alla fin fine ecco che io mi sono messo l'asse di sezione dove voglio avere il profilo termico oppure posso anche ulteriormente eventualmente spostarlo qui però non mi serve più la lunghezza perché sta roba qui non mi serve io facendo doppio clic qui dico no guarda che influenza flusso di calore non non voglio che mi influenzi il calcolo del psi se no mi fa pasticci mi fa un nu per l anche su questo quindi andrà a fare un tolgo questo e alla fin fine mi lascia solo l'asse dove lui fa l'analisi termica bene adesso ho inserito questo ulteriore elemento che servirà solo per tracciare l'andamento di temperatura lungo quest'asse io lo posso fare anche in corrispondenza di questi che già ci sono ma qui vi ho fatto vedere che c'è la possibilità di inserire un elemento di sezione destinato solo alla verifica all' all'andamento termico senza che mi influenzi il calcolo del psi bene io qui a questo punto voglio fare il campionamento voglio andare ad avere il profilo della temperatura e per cosa sull'analisi flussi su quando fa la condensa o quando fa la muffa e l'andamento della temperatura lo voglio preciso ogni millimetro o ogni dieci millimetri o quello che è lascio un millimetro gli dico che mi interessa soprattutto quando fa la muffa la verifica muffa oppure la condensa che ne so quindi seleziono questo e a questo punto il mio elemento di sezione mi darà i risultati dell'andamento di temperatura lungo questo piano una volta fatta la simulazione quando farà la simulazione muffa quindi questo è un ulteriore utilizzo degli elementi di sezione altro uso degli elementi di sezione adesso con la versione 6 fino adesso abbiamo usato gli elementi di sezione ponte solamente per fare il calcolo del psi normale in realtà siamo utilizzati anche per fare il calcolo del giunto pavimento su terreno parete quindi con l'opzione A quindi se io decido di fare un calcolo di pavimento su terreno con l'opzione A devo selezionare lo vedrete dai tutorial questa modalità di calcolo quindi questo mi consente di fare il calcolo che abbiamo visto del psi della giunzione parete pavimento calcolando la U del pavimento con le formula 3C370 e mette in moto anche tutto il meccanismo di calcolo separato cioè di fare un modello separato per la verifica muffa rispetto al calcolo del psi poi oltre agli elementi di sezione ponte ci sono gli elementi area cosa che non è mai stata molto utilizzata in passato che adesso invece diventa fondamentale per il calcolo della posa allora se io scelgo di usare le aree ponte e quindi di utilizzare questo questo strumento e non la croce avrò la possibilità o di calcolare la giunzione pavimento cioè la praticamente calcolare la trasmittanza del pavimento contro terra con l'opzione B che è quella di fare una simulazione a parte in automatico del pavimento oppure col posa posa serramento quindi se voglio fare l'analisi di posa del serramento scusa Piero non voglio interromperti stiamo andando un po' lunghi con i tempi abbiamo già passato le 5 sono passate le 5 no direi che magari possiamo andare avanti ancora qualche minuto poi faccio solo un esempio di calcolo della posa ok perfetto poi il resto chiudo velocemente sui rep va bene grazie grazie per avermi perché sai quando l'orologio non lo guardavo allora facciamo un esempio di posa subito d'accordo vado a prendermi partiamo da prima l'abbiamo fatto non lo so se l'abbiamo fatto no vi ho fatto vedere il modello parametrico adesso vi faccio vedere come calcolare in automatico la posa di un serramento dettagliato cosa che nel parametrico voi non trovate perché nel parametrico io posso schematizzare un telaio con un rettangolo un vetro camo con un rettangolo ma se ho un disegno molto più complesso come faccio allora qui dico di no partiamo dal calcolo della posa quindi dal scelgo userò un file di xf scelgo questo template qua posa serramento e quindi parto qui col template così ora io potrei andare a caricarmi il file di xf come sarebbe normale però ho già un file che ha già dentro i materiali allora per portare dentro un file che ha già dei materiali assegnati c'è un file .mos però assegnargli questo template qui ereditare tutte le funzionalità di questo template qui vi ricordo che dovete usare il comando inserisci quindi io utilizzerò il comando inserisci vediamo se adesso mi si apre di qua vado a prendere vediamo esempi posa finestra su pilastro potrebbe essere quello se ne prendo uno a caso della verità apri questo inserisci elementi di sezione ok bene io qui ho una situazione decisamente complessa dove fare il calcolo della trasmittanza del calcolo di posa di questa situazione qui fra l'altro vi faccio presente che qui nel psi ci sarà dentro questo pilastro che è una disomogeneità quindi va a interrompere l'omogeneità della parete quindi mi rientra nel psi di posa è chiaro che se io avessi parete pilastro e parete cioè la sezione fatta su un piano sopra o sotto la finestra mi ricaverei solamente il psi pilastro qui ci ho invece combinato il psi pilastro più tutta questa roba qui dove ho dentro stite lai queste cose eccetera c'è un serramento ma c'è anche tutta questa roba qui e allora andare a calcolarsi il psi di posa qui potrebbe essere complicato ma non lo sarà io ho fede che non lo sia allora innanzitutto metto l'andamento del flusso di calore i materiali sono già inseriti e qui non ho fatto altro che mettere l'elemento di sezione che è la lunghezza che io considero disperdente di parete che sarà fino a dove inizia il serramento perché io in pratica questa struttura qui la divido in due aree un'area parete fino a dove c'è il serramento e un'area serramento quindi l'elemento di sezione mi serve per dire guarda che EC700 contabilizzerà la dispersione di questa parete con la U calcolata qui fino a dove inizia il serramento poi sul serramento cosa faccio ci metto dentro ciò ha disegnato sta roba qui adesso ve lo ridisegno lo tolgo vado qui in aree ponte perché devo inserire un'area ponte vado il diciamo il template ha già predisposto aree ponte posa serramento quindi dovrei già trovarmi se ho scelto il template giusto mi trovo già questa impostazione qui l'unica cosa che devo fare è disegnare un'area intorno a isolare insomma il mio serramento che è quello per cui il serramentista mi darà l'UV doppio io so che il serramentista mi darà l'UV doppio di questo serramento qui non me lo calcola già con la guida con questo perché questi sono cose opzionali che lui monta poi a parte dopo non me lo dà neanche con il controtelaio e tutto l'UV doppio che mi darà il serramentista sarà puramente del serramento nudo che come esce dalla falegnameria quindi col telaio il suo telaietto in alluminio e il vetrocamera quindi io quello devo dirgli al programma di togliermelo dall'L2D perché quello lo contabilizzerò poi nel C700 come UV doppio o come UF telaio più G vetro insomma in ogni caso il serramento vedrò come calcolarmelo in C700 non lo devo considerare qui allora lo devo togliere bene per toglierlo devo dirgli al programma ok allora partiamo da qua per me il serramento lo tenendo premuto X e Y lo vado fin qua poi vado fin qua poi qui siccome è aria posso andare fuori a qualche modo non mi interessa gli giro intorno finisco direi qui e poi qui vado via e chiudo ecco qua quindi io mi sono contornato il mio serramento e gli ho detto guarda tutta sta roba qui che c'è qua dentro quest'area qui tu calcolamela a parte io voglio sapere quanto è il flusso che passa attraverso sta roba qui quindi tutto là un'ultima cosa devo fare quando lui andrà a fare il calcolo del serramento devo dirgli cosa considerare adiabatico e cosa no come confine perché chiaramente isolando il serramento qui io dovrò dargli un bordo adiabatico e quello glielo devo dire usando il materiale segmento quindi adesso qui lo vedete già giallo togliamolo anche questo così poi lo rimettiamo e io gli dico bene quando farai il calcolo del solo serramento fa in modo che questo da qui da qui a qui qui c'è tutta questa zona qui sia considerata adiabatico se io metto l'adiabatico qua vuol dire che considero poi dopo le cavità che fanno parte del telaio perché è chiaro che questa cavità qui mi diventerà una porzione un'area del telaio se non volessi tener conto di questa cavità nel calcolo del serramento allora dovrei andare dentro qui con l'adiabatico in modo tale da avere un confine adiabatico qua ma insomma fin qua perché poi anzi vado oltre perché voglio che mi consideri adiabatico anche sta porzione qui questo no lo tolgo sta porzione qua ok quindi questo sarà il mio bordo adiabatico il resto sarà esposto dopo vediamo come viene fuori allora andiamo nei contorni nei contorni dovremmo mettere il contorno veramente adiabatico qui il contorno adiabatico qui abbiamo il nostro esterno che lo mettiamo qui l'interno lo mettiamo sulla no sulla parete quindi solo qui e poi qui e poi il resto mettiamo il serramento interno adesso non sto lì a discutere che dovrei ovviamente qui le impostazioni dal template sono corrette devo solo eventualmente cambiare la zona climatica insomma facciamo per quello che è vado in simulazione e lancio la simulazione il programma farà due simulazioni una del solo serramento così come l'ho isolato io e mi calcola il valore di L2D cioè del flusso che passa attraverso quel solo serramento e poi mi fa la simulazione completa togliendo dalla simulazione completa sia la U per L della parete sia l'L2D del serramento in modo tale che mi resta il psi che come vi ho detto in questo caso è inclusivo anche del psi del pilastro perché c'è nella parete non si può ovviamente ignorare quindi sarà la somma del psi pilastro più psi di posa il qui la diciamo il calcolo è piuttosto lungo complesso perché ci sono molte cavità ci sono spessori molto sottili il disegno è piuttosto sono le cavità soprattutto da calcolare però adesso un po' alla volta ci arriviamo passo 2 vediamo il passo 3 ok vi anticipo già che l'altro punto notevole di diciamo di modifiche nella versione 6 rispetto alla 5 sono tutti i report di calcolo perché sono state aggiunte delle funzionalità di autoallineamento dei dati nelle etichette di autodimensionamento delle etichette insomma di far apparire le etichette solo in certe situazioni basate a dei criteri questo fa sì che tutti i report di calcolo mentre prima a seconda dei casi poteva capitare che tabelline andassero in sovrapposizione di altre etichette o di immagini eccetera questo non dovrebbe più succedere o comunque c'è la possibilità che non succeda ecco qua quindi noi abbiamo il calcolo abbiamo il valore di psi già calcolato se andiamo sul calcolo solo finestra voi vedete che il programma da solo si è fatto il calcolo del solo serramento come contorni ha utilizzato l'adiabatico dove gli ho detto io e l'esterno e il contorno serramento interno quindi lui è andato quello che prima bisognava farsi a mano adesso lui l'ha fatto in automatico si è calcolato il il valore di L2D del di questa sezione qui e l'ha portata in detrazione all'L2D totale questo assieme all'U per L della parete e quindi il risultato è questo qua allora voi fra l'altro adesso andiamo a vedere il report vedete anche che c'è questo questo frame qui nero chiamato zoom questa è una vista in pratica ora le viste se voi catturate una vista del desktop c'è la possibilità di vedere anche qual è l'estensione di quella vista che avete catturato è come lo screenshot io ho fatto uno screenshot che in realtà era grande era grande così cioè il mio schermo in quel momento era faceva vedere quello che c'è qua dentro il bello di questo è che io però posso anche modificare questa vista qua quindi ho una vista che si chiama zoom la vedremo la vediamo qua dentro c'è una vista zoom che è caricata col template se io clicco su zoom non è altro che questa vista qui che ha scattato io però posso con questo pulsante qui ridimensionarlo a mano e con questo qui spostarlo quindi io posso trasformare questa vista zoom in questo modo qua facendo sì che mi faccia vedere solamente un dettaglio quindi appunto lo zoom questo mi serve perché nei report io non voglio in alcuni casi voglio non mi interessa avere tutta l'estensione della parete o immaginate il pavimento contro terra di tutto il cubo voglio avere un dettaglio sul punto più critico quindi io posso ridimensionare chiaramente la forma della videata dipende dal mio schermo che ho in questo momento quindi è fatto così a queste proporzioni e se io vado sul calcolo obsidiposa adesso vedete che lui mi fa vedere appunto un un dettaglio se lo ritengo che sia troppo piccolo torno sullo zoom lo allargo un po' e quindi poi andando sul calcolo obsidiposa eccolo qua che adesso è già più grande poi posso modificarlo interattivamente in questo modo qua io qui avrò come vi dicevo le etichette il carattere il font si ridimensiona in automatico per farci star dentro tutto quindi se io avessi altri materiali lui ridurrebbe ulteriormente il carattere per farmi star dentro tutte le righe la stessa cosa lo fa in orizzontale poi mi ritrovo dentro gli altri report faccio notare che se io non ho messo i dati nelle impostazioni non mi compaiono quelle celle che prima mi comparivano qua li vedete leggere questo puntinato ma solo per far vedere che ci sono delle etichette potenziali sotto ma in realtà non verranno stampate quindi fare un report molto più pulito e questi messaggi quindi c'è condensa o non c'è condensa sono interattivi cioè dipendono dal risultato quindi ho la possibilità di inserire delle etichette che si mostrano le vedo solo se ottengo certi valori ottengo certe condizioni diciamo che tutta la possibilità di gestione delle presenze della visualizzazione delle etichette adesso è molto più sofisticata e quindi posso andare in muffa per esempio e qui ho nessuna formazione di muffa sul giunto perché distingue tra giunto e serramento chiaramente e quindi ho la possibilità insomma di ottenere dei report vi ricordo sempre che per stampare un report c'è la possibilità di andare qui sulla stampante selezionare la lista e poi scegliere quale report stampare e poi una volta scelto il report selezionare la stampante tra cui dovreste avere dentro una pdf quindi ho alcune pdf ma c'è la microsoft per esempio il tuo pdf e ottenere dei dei dati di pdf dei report di pdf ok adesso in questa fase credo di aver detto più o meno tutto quello che c'è di importante ci sono tante altre poi piccole modifiche che ne so c'è una cosa importante non voglio rubare troppo tempo ma importante quando io ho la necessità di ricreare adesso per esempio ho ottenuto un contorno esterno che ha queste impostazioni qui di temperatura diciamo che io sull'esterno mi possono andare bene tutte queste temperature qui tranne però quella di luglio agosto che dovrei metterle più alte cioè ho la necessità di modificare solo una o due o tre temperature di queste ecco io lo posso fare aggiungendo un contorno quando vado su contorno posso andare su impostazioni per esempio qui con allora su dedicate prendere un per mese e quando sono sull'impostazione per mese eccolo qua ho la possibilità di andare a importare i dati da un altro contorno esistente in questo caso l'esterno quindi io andrò a importare i dati che mi ha generato in automatico dall'algoritmo della 3C788 per la muffa esterno quindi faccio ok ecco che mi ritrovo qui tutte le medie mensili calcolate dalla ISO 3C788 e vado a modificarmi solamente quella di luglio e di agosto per esempio e quindi faccio ok e userò questo contorno come nuovo esterno per esempio quindi ho la possibilità di far riferimento alle temperature di un contorno far riferimento a già a contorni esistenti questo anche è molto importante bene Piero dobbiamo chiudere mi sa fra poco perché siamo andati un po' lunghi con la presentazione di oggi adesso ti vedo un attimo frizzato Piero ci senti ancora temo che abbiamo perso l'ingegner Berlanda eventualmente se ci senti prova a rientrare all'interno della piattaforma io vedo di chiudere giusto due informazioni legate all'interfaccia che c'è fra EC700 e MOL Simulator sostanzialmente l'interfaccia attualmente rimane quella attuale che già siamo abituati a utilizzare da un po' di tempo e verrà ampliata per andare a diciamo così usufruire delle tante novità che come avete visto riguardano la versione 6 di MOL Simulator nello specifico nei prossimi mesi andremo ad aggiungere la possibilità di interfacciare le EC700 anche con i punti termici dedicati alla posa del serramento e al terreno e al pavimento su terreno attualmente le tipologie che sono state implementate nell'interfaccia fra i C700 e MOL sono quelle che vedete appunto all'interfaccia di C700 dove potete esportare ponti termici relativi ai nodi parete copertura piana parete sole interpiano parete pavimento parete soffitto verso non riscaldato parete pilastro angolo fra pareti qui in questa sezione vi andate di fatto a definire una geometria del nodo del ponte termico che può essere anche semplicistica relativamente al nodo anche perché non abbiamo a che fare sempre con delle nuove costruzioni quindi non sempre i nodi li conosciamo alla perfezione molto spesso dobbiamo utilizzare i ponti termici per degli edifici esistenti dove possiamo solamente andare a supporre come è fatto il nodo del ponte termico quindi non possiamo caratterizzarlo in maniera più di tanto specifica in questa maniera io ad esempio ho simulato al volo un ponte termico che prevede la presenza di un soffitto verso sottotetto non riscaldato con il pulsante apri con mol simulator se sulla stessa macchina in cui è installato il C700 è presente anche mol simulator viene lanciato direttamente il software mol simulator e al suo interno troviamo già direttamente impostato il ponte termico con tutte le sue caratteristiche vediamo quello che è il dettaglio del nodo del ponte termico sono già state inserite automaticamente le linee di sezione per effettuare un rilievo esterno delle superfici proprio come lavora il C700 troviamo già anche i materiali inseriti in mol simulator e tenete conto che l'archivio dei materiali del clima è condiviso all'interno di mol simulator sono altresì definiti anche i vari contorni e a questo punto non rimane nient'altro che lanciare la simulazione quando la simulazione viene eseguita da mol simulator in automatico il risultato del ponte termico viene caricato all'interno di C700 se invece mol simulator è installato su una macchina diversa da quella di C700 da C700 potete esportare un file con estensione scusate ho sbagliato dovete sostanzialmente andare a dunque facciamo un importa andate a importare un file con estensione .elx che viene esportato direttamente dai C700 in questa maniera andate ad importare sostanzialmente quello che avete visto attualmente con il calcolo lanciato direttamente da mol simulator quando poi andate a salvare il file lo dovete esportare con estensione .mlz quindi il formato .mlz è unicamente un'esportazione da mol simulator quindi il file in estensione .mlz potrà essere unicamente importato all'interno di ec700 in sostanza ec700 tramite il comando mol simulator potete andare ad importare un file con estensione .mlz in ec700 vi trovate comunque un video tutorial dove viene spiegato come applicare tutta questa metodologia che vi ho spiegato quindi come impostare il punto termico in ec700 come esportarlo in mol simulator ed importarlo nuovamente all'interno di ec700 con questo quindi descrivendo brevemente la procedura dedicata all'esportazione e importazione del punto termico da e per mol simulator concludo il webinar di oggi anche perché siamo andati piuttosto piuttosto lunghi ma d'altronde le novità che l'ingegner Berlanda aveva da mostrarci circa la versione 6 di mol simulator erano parecchie dato che l'interesse è stato anche veramente importante da parte vostra vedremo di riproporre in futuro un'altra data per di approfondimento circa le novità di mold 6 della versione 6 di mold anche perché temo che l'ingegner Berlanda non abbia fatto tempo ad elencarsene tutte e quindi vedremo di organizzare prossimamente un nuovo webinar ed il clima d'art dedicato alla versione 6 di mol simulator e con questo io vi saluto e vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e ci sentiamo al prossimo webinar grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti